Stefano Candiani, la Lega Nord è molto arrabbiata col Ministro Alfano, per la seconda volta non si è presentato in aula sull'informativa dei tifosi del Final. Una mancanza di rispetto, innanzitutto nei confronti dei cittadini e ovviamente in questo caso nei confronti anche del Parlamento, perché gli è stato chiesto di venire a riferire quali sono i sistemi di sicurezza che hanno o non hanno funzionato e quali sia stata la situazione. Prima il Ministro ha dato la disponibilità per venire settimana scorsa e poi ha fatto disdire la seduta. Dopodiché la maggioranza ha deciso di ricalendarizzare il tutto per oggi alle ore 12 e anche oggi non si è presentato, mandando il Vice Ministro. A fronte di ciò non resta che una conclusione. Ha paura, scappa. Il Ministro degli Interni ha paura di rispondere delle proprie responsabilità. Noi abbiamo chiesto al Ministro di venirci a dire quali livelli di sicurezza sono in campo, anche perché se questo è accaduto con dei tifosi di calcio, figuriamoci quando potrebbe esserci da affrontare pericoli più seri come quelli legati alla criminalità internazionale o addirittura al terrorismo. Su questo siamo molto preoccupati e molto arrabbiati, perché non è così che si governa il Paese, non è così che si dà certezza che le istituzioni danno sicurezza ai cittadini. Grazie.